A voi tutti buonasera e bentrovati. Siamo arrivati ad intorno alle 9 e questa sera parliamo di Armida Barelli, proclamata beata lo scorso sabato 30 aprile. Barelli, cofondatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a lei è attribuita la guarigione miracolosa della pratese Alice Maggini. E proprio qui con noi questa sera c'è il figlio maggiore di Alice Maggini, Piero Toccacieli. Buonasera, ben trovato. Grazie per essere qui con noi. Allora Toccacieli, tutto è iniziato, ripercorriamo un po' appunto la storia che ha portato poi alla beatificazione di Armida Barelli. Tutto è iniziato proprio 33 anni fa, era il 5 maggio del 1989. Sua mamma fu investita da un camion, ci puoi raccontare appunto cosa successe quel giorno? Niente, successe che la mamma era ambicoletta, tornava a casa e un camion non l'ha vista, l'ha investita. E ha riportato una commozione cerebrale, intanto più che all'ospedale c'è stato diversi giorni, è stata anche in coma, ora non mi ricordo quanti giorni c'è stato, comunque un po' di giorni, e i dottori, i professori che si adoperavano al medio per rianimarla, e non c'era niente da fare, niente da fare. A quel punto è intervenuta la mia cucina, Anna Minici, e la mia cucina, che è sempre stata una praticante d'azione cattolica, si è messa a moto per creare un gruppo di preghiera, per far sì che chiedeva una grazia a quest'armida Barelli, per vedere se riuscivano a fare qualcosa per la mamma. La cosa sembrerebbe riuscita, perché un bel giorno la mamma ha cominciato a risvegliarsi, e piano piano è tornata in vita, per bene, a casa, fino a che è morta di vecchiaia, e non ha mai avuto problemi, quindi questa è veramente una bella grazia, e io devo ringraziare appunto Armida Barelli, ma anche la mia cugina Anna Minici, perché se non era per lei tutto questo non si sarebbe mosso. I medici cosa vi dicevano? Lei intanto quanti anni aveva quando è successo? Comunque la piccola cosa si ricorda appunto di quei giorni, e che cosa vi dicevano anche i medici? Io avevo 30, un po' più di 30 anni, e i medici non ci dicevano niente, perché anche loro aspettavano di vedere una reazione della mamma, e questa reazione non veniva, non c'era niente, e anche loro ormai non erano più, non sapevano più cosa fare, ora io lo dico un po' a parole mia. Certo, certo. E niente, dopodiché ho detto, i professori non si esprimevano, però con queste preghiere probabilmente si è espressa Armida Barelli, perché secondo me è veramente una grazia questa. Quindi voi grazie appunto a Anna Minici che è sua cugina, voi avete iniziato a pregare per Armida Barelli, la conoscevate voi in Armida Barelli? Comunque vostra Anna Minici ve ne aveva anche parlato, ve ne aveva raccontato di lei. Anna si la conosceva, essendo praticante di reazione cattolica, insieme a altre persone qui di Prato, ora non mi ricordo, mi ricordo una certa Fiorella, Pecchioli se non sbaglio, e niente, loro la conoscevano, tanto più che hanno fatto di tutto per poter fare questi gruppi di preghiere. Noi no, noi... Voi non l'avete conosciuta, appunto ricordiamo un po' chi era Armida Barelli, Armida era nata a Milano nel 1882, apparteneva appunto al Terzo Ordine Secolare di San Francesco, è cofondatrice dell'Istituto Superiore Secolare delle Missionare della Regalità del Nostro Signore Gesù Cristo, cofondatrice, come detto prima, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e ha dato vita anche alla gioventù femminile dell'azione cattolica. Armida è morta poi nel 1952, dopo 18 anni si è aperta la causa di beatificazione, che ha portato appunto alla sua beatificazione, e a febbraio del 2021 Papa Francesco ha riconosciuto proprio il miracolo avvenuto a Prato per la sua intercessione, ha aperto così la strada alla sua beatificazione. Voi in che modo avete seguito anche appunto la strada, questo percorso, come avete fatto anche per raccontare questo miracolo? Questo percorso è stato lungo, lungo, tanto più che la mamma è stata anche a Roma con l'Anna Menici e la sua postulatrice, che ora non mi ricordo il nome, scusatemi, e dopodiché ci sono sempre stati vari incontri, perché non è stato semplice riconoscere una cosa del genere, perché giustamente è una cosa molto molto importante, non deve prendere la leggeva. E poi lo scorso 30 aprile appunto, come dicevamo, a Milano è stata dichiarata beata, Armida Varelli, nel Duomo di Milano, dal Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, insieme ad Armida, quel giorno, insomma, sabato scorso è stato beatificato anche il sacerdote della diocesi, Ambrosiano e Mario Ciceri, e voi eravate presenti a Milano, intanto quindi chi è andato a Milano di voi della famiglia? Eravamo in prima fila, se era io e mio fratello, perché noi siamo tre fratelli, uno non poteva venire, e siamo andati io e Luciano, con le rispettive mogli, e la mia cugina, sorella dell'Anna, Cristina Menici. Mi è dispiaciuto che non è potuta venire l'Anna, perché lei sarebbe stata proprio una cosa bella. La cerimonia è stata stupenda, bellissima, in tutto e per tutto, una cosa che ti prende veramente, una cosa stupenda. Dopo da lì siamo stati all'Università Cattolica, siamo stati a visitare la tomba dell'Armida Varelli, ma è stata una giornata bellissima, una cerimonia che è impossibile scordarsi. Insomma è stato bello essere lì presenti e sapere appunto che cosa era successo appunto il miracolo di vostra mamma. Vostra mamma, ritornando appunto, sua mamma, ritornando un po' a quello che era successo 33 anni fa, dopo vi ha raccontato anche qualcosa, che cosa vi ha detto, vi ha parlato anche appunto di Armida, lei immagino appunto era devota anche a Armida. Sì, dopodiché gli è stato fatto tutto questo percorso di preghiera, è ovvio che anche la mamma pregava tanto e raccontava anche di tutte le sue, diciamo, come si può dire, la gita che ha fatto a Roma con la sua postulatrice, ce l'ha raccontata per filo e per segno, le cose belle, tutte le domande le hanno fatto, niente. Insomma sono dei bei ricordi, è una bella emozione anche rivivere quindi sabato scorso tutto questo percorso insieme. Sì, perché è indescrivibile, troppo bella, troppo. Poi il Duomo di Milano è una cosa eccezionale. Vediamo infatti le immagini qui, insomma, anche a rivedere le immagini che l'emozione fa, a rivedere appunto Armida e anche la foto di Mario Ciceri, qui ci sono appunto proprio tutta la celebrazione, insomma è stato un bel momento, un bel riconoscimento nel ricordo di sua mamma, ovviamente di Armida. Di Armida, sì. Varelli appunto è stata anche, come dicevamo, la fondatrice delle donne di azione cattolica, quindi ha rappresentato molto anche il lacato femminile e questo evento prodigioso, appunto, ritornando un po' al miracolo, ha segnato quindi le vostre vite e indubbiamente quelle della vostra famiglia, ma anche appunto quella dell'azione cattolica e dell'intera chiesa. Certo, specialmente qui a Prato, con questa grazia di rifiuto a Prato, l'azione cattolica pratese è orgogliosissima e poi sono le persone, noi siamo stati su a Milano insieme con altre nove persone, tutte persone stupende e tutte praticanti di azione cattolica. In che modo portare anche avanti comunque il percorso, il messaggio di Armida e comunque anche questo processo che avete portato avanti voi negli anni? Comunque è stato un percorso lungo, un messaggio appunto particolare, anche questo che ha lanciato appunto Armida, il miracolo che ha fatto Armida non si dimenticherà, certo. Come raccontarlo anche alle future generazioni? Si racconta come ho raccontato una cosa ora perché non è semplice e poi se si vive di persona le cose si prendono, si capiscono in un certo modo, poi con il passare degli anni forse le nuove generazioni si affievolisce la cosa, non so. L'importante è parlarne, poi vedremo. È fondamentale, ricordiamo appunto, quindi in tutto questo percorso, in questo processo c'è sempre il ruolo di sua cugina appunto Anna Menici. Sì, sì, Anna Menici è stata la cosa portante, via. Senza di lei non si sarebbe mosso nulla probabilmente, anche perché noi, nella famiglia Tocchia Ciali Maggini, Armida Varelli non la conoscevamo. Invece l'Anna Menici, lei la conosceva insieme con altre persone del gruppo cattolico e quindi per loro è più facile parlare di queste cose. Io le riporto un po' però non sono proprio... Ha vissuto comunque quei momenti e Anna Menici, ricordiamo appunto proprio Armida, è stata anche a Prato diversi anni fa, era stata in San Nicolò anche a Prato a portare appunto quelli che sono i suoi principi. Io ringrazio davvero Tocchia Ciali per essere stata con noi, grazie davvero, grazie mille a tutti voi, grazie per averci seguiti, arrivederci e buon proseguimento di serata con i programmi della nostra emittente. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutti.